aspettano i cristiani aspettano cristo da duemila anni i musulmani sciiti aspettano l'imam madi da mille e ottanta anni i drusi aspettano amza ibna li da mille anni sunna aspetta il profeta issa da mille e quattrocento anni i buddhisti aspettano maitreya da duemila e seicento anni gli hindù aspettano kalika da tremila e settecento anni i musulmani aspettano un messia dalla linea di maometto da mille e trecento anni gli ebrei aspettano il messia da duemila e cinquecento anni ma chi aspettano commento aspettano inconsapevolmente la loro maggiore evoluzione la loro maggiore evoluzione il passato Avanzati avvicin Seiri avvicinato avvicini Grazie a tutti.